E' conosciuta come la città di Papa Innocenzo XII, è la terra del fungo Cardoncello ed è la salsiccia a punta di coltello che da alcuni anni è celebrata con una festa la cui organizzazione è affidata alla Proloco. Spinazzola è la più piccola città della provincia Barletta Andrea Trani e paga ancora il suo trasferimento tra i comuni della terra di Bari deciso da Gioacchino Murat che la sottrasse al distretto di Matera. Il collegamento stradale infatti rappresenta ancora oggi un disagio per i cittadini spinazzolesi pendolari ma al tempo stesso rappresenta una delle vie panoramiche più suggestive del territorio murgiano. E' una bellissima strada, è una strada che ha delle curve che hanno una sinuosità particolare, molti la vedono come un ostacolo però in realtà chi poi la percorre per venirci a trovare effettivamente soprattutto in questo periodo se si guardano intorno vedono un panorama spettacolare dei colori bellissimi e questo da qui a primavera continuerà sempre ad essere più bello, sempre ad essere migliore. Ecco perché venire a Spinazzola per la festa della salsiccia è anche un'occasione per deliziare i propri occhi di un panorama davvero stupendo. Insomma chi può prendersi del tempo per se stesso ha in Spinazzola una destinazione che riesce a rappresentare la Puglia più profonda. I paesaggi sembrano disegnati e restituiscono colori e sfumature sempre diversi in ogni stagione. Come i sapori sono diversi in ogni stagione ad eccezione di quello della salsiccia a punta di coltello presente tutto l'anno nelle macellerie della città è la scusa perfetta per avventurarsi nella Puglia più Puglia. La Proloco è un'associazione che si impegna tanto per promuovere qualsiasi tipo di prodotto che proviene dalle nostre tradizioni, prodotti sia enogastronomici anche diciamo di territorio, ambiente, culturali del nostro paese. Quindi anche la salsiccia come prodotto locale è uno degli elementi a cui noi affidiamo la nostra tradizione e la divulghiamo per farla conoscere e anche apprezzare.